A partire dal 15 luglio, in via del tutto sperimentale, non sarà più possibile presentarsi liberamente allo sportello IMSS per parlare della propria situazione previdenziale e contributiva se non utilizzando un'app scaricabile sul dispositivo mobile oppure accedendo sul sito con il proprio PIN, dove si potrà effettuare una prenotazione utile per qualsiasi tipo di richiesta specifica. Novità che cambia letteralmente l'approccio degli utenti con l'istituto soprattutto per coloro che non possiedono dimestichezza tecnologica. Secondo l'ente previdenziale l'operazione dovrebbe consentire una più rapida gestione delle pratiche. Lei sai cos'è un'applicazione digitale? No, non ce l'ho, non c'ho niente di quelle cose lì. A me piace andare personalmente. Alla mia età non vorrei digitalizzare niente perché per me è comodo così. Per noi, almeno per noi che siamo arrivati a una certa età. Poi per quelli 65 anni appena andati in pensione, non so se sono ancora un po' più giovani, vorrebbero ancora digitalizzare, fare delle cose diverse, non lo so. A noi rimane molto difficile per il semplice fatto che è difficile usare il telefono, quelle cose lì, non le sappiamo fare. Ossia per i giovani rimane una cosa più semplice, ma per noi è difficile. Ci faremo aiutare da qualcuno, no? Che dici? Ci sarà un giovane che fa lui per me, no? Perciò io trovo una cosa utile perché snellisce, no? Snellisce il lavoro, il tempo. È una cosa sempre utile. Perciò che si faccia. Vietato dunque l'accesso libero, resterà per l'utenza un solo sportello anche per aiutare a gestire la transazione al quale ci si potrà rivolgere per prenotare l'appuntamento, qualora gli utenti dovessero riscontrare difficoltà attraverso i dispositivi tecnologici. Inoltre, lo sportello potrà anche dare informazioni di base relative ai stratti contributivi, CUD o certificazioni semplici, ma per entrare nella situazione contributiva occorrerà utilizzare la nuova modalità. La sperimentazione già attiva con successo in Emilia-Romagna riguarderà anche le marche, nello specifico Fermo e la provincia di Pesaro e Urbino, con l'obiettivo di sradicare le file e derogare un servizio più puntuale, gestendo al meglio le richieste degli utenti.